dai 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 tu rinviato e che faccio mangiamo 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 ma guarda l'ho fatto di fare i fratelli cazzo però sta schimmo ma è buono 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 dai dai calcio di punizione dai calma mamma mia di marco mamma mia di marco mamma mia chissà ogni tir ti fa cacà sotto E l'ha cambiato pure buono, l'ha cambiato. Mamma mia non è passata questa falla. Mamma mia. Oh, è falla. Ma come fanno a non essere fallo? Arbitro, ma robescio. Si è messo un gol. Si segna il gol, si segna il gol. Si segna il gol, si lo sento. Si segna il gol, si lo sento. Mkhitaryan è morto, no Mkhitaryan. L'arbitrista fa il scimmere. Fallo sul palaschelia. Eh, non c'è ne guarda. Capitale, diglielo. Arbitro, ci stanno ancora andando. Ma come fanno a non essere fallo? Lo voglio capire. Lo voglio capire. Oh, c'è l'uomo con l'acchista. Bravo, Kvara. Ehi, bravo, cazzo. C'era la falla a loro, c'era... Mamma mia. Ma vuoi spazzare buono? Che fai? Ehi, bravo. Guarda il santo che è giusto. Guarda il santo che è giusto. Guarda il santo che è giusto. Oh, è falla. Però c'era un giallo, c'era la frate, ma c'era... C'era un giallo, c'era... Eeeh... Così, quando falli c'era un giallo? Non c'era un giallo. Non so, c'è l'arbitrista... Quante palla ti faccio con il piano giallo? Mamma mia, che fai scimmo qua, c'è... Ma tu una palla devi rimettere... Ma come la fai a mettere la cussiata da fuori? Fuori gioco, frate? Ma chi sta solissimo? Come fanno ad essere fuori gioco? Fuori gioco, frate? Ooooooh! Fuori gioco... Friari! Mamma mia, chi? Eh, ho guardato la roba... Shhh... Non so, vedi che era fuori gioco... Non puoi continuare? Mamma mia, mi stai guardando solo lì se stai guardando... Siete sette metri... Troviamo a mannanzi... Poi, vabbè, noi abbiamo abbiato il gol come scemo proprio... Vabbè... Lasciamo sta proprio... Lasciamo sta... Beeeella... Ma devi solo tu andata la porta... Ma devi solo tu andata la porta... Punta, punta... Tiro! Tiro! Ma quanto tiro! Ma dovuto aspettare che arrivassero i compagni all'interno dell'ordine... Ma dovuto aspettare... Tiro! Oh... E ovviamente il cartellino giallo... Guarda quest'arbitro di merda... Guarda quest'arbitro di merda... Guarda quest'arbitro di merda... Un intervento ha fatto Rachmani... Subt c'ha dato giallo... Ha fatto sette interventi... C'ha la noblu... E c'ha dato mezzo giallo... Che merda... C'ha la noblu... 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 Fini al primo tempo... Mamma mia... Allora 0 a 0... Più Inter dal venticinquesimo... Trentesimo in poi... Siamo entrambe bloccate... Waiu... Secondo me... Abbiamo entrambe paura di scoprirci troppo... Però ho visto più Inter... Devo essere sincero... Soprattutto su quel... Tiro al volo di Di Marco... E su quest'ultima... Su quest'ultimo colpo di testa... Di Duram fuori... Cercami c'è c'è da un secondo tempo... Speriamo... C'è ma chi sta... Mamma mia... Mi t'eravamo... Mi t'eravamo pronti i cartellini... Chi si volavano... Mamma mia... Dai che ce la siamo presa... Dai... 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 Cur... Cur... Puntalo... Puntalo... Ma non ho capito... Sommers... Oiga... Quando... Puntalo... 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 Eh... 50 minuti... Dovano dire un po' orto... Non c'è la cavara... Eh ma... Zommers... Ma che fai a fa... Lasci... Sommers... Ma non c'è la cavara... Ma... Lo guarda armata... Tu vanno... Qui c'è... Nuovamente... Tensione... Per l'intervento di... Simeone... Che... È già... Ma come rosso per Simeone... Non ci crede... Non ci crede... È un arbitro di merda... Lo sto dicendo dall'inizio... Ma io... Questo è proprio scemo... Questo è proprio scemo... Questo è proprio scemo... Guarda qua... Questo è proprio nuvannuto... Ma cosa fa da russo... Doppio giallo incredibile... E loro fanno una marea... Fanno un giallo... Assurdo... È incredibile... È incredibile... È incredibile... Pure un giallo a ammazzare... Guarda... Non si mette scuore... Non si mette scuore... Chi... Non si mette scuore... Questo arbitro di merda... Guarda... È incredibile... È incredibile... È incredibile... Fatti senti... Fatti senti... Bravi... Parla per tutti noi... Ho tenuto in casa... Ho fatto un po' di pesce... 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 Guarda... E le scemo... E le trovate qua... Ma che ne troviamo... Quei quattro... Ho fatto... E' un po' di pesce... Sanchese... Sanchese... N... N... No... 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 O... E' un po' di pesce... Issa... Essa... Gesù... C'è il mio... Mamma soffrì... Gesù... No, è scivolato, è caduto Ma l'ho capicciato con l'ini, con fatiglia la parata Maronna, maronna, mamma mia, che sofferenza Cinque minuti di recupero No Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Come si è scema, si è scema proprio Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Che ci andò alla fine, lo sapevo Alla fine, guarda là, guarda là, guarda là guarda là, guarda là, guarda là, alla fine, alla fine, alla fine, alla fine, siamo tutti quanti in dall'aria, stavamo tutti quanti a difendere, ma com'è possibile che stavamo solo a Tauro Martinez, stavamo guardando con una punta, stavamo tutti quanti in dall'aria forte, stavamo, com'è possibile capiglissi, ma lo sapevo, ma lo sapevo, eppure era una coppa che la potevamo vengere, almeno la Supercoppa italiana, almeno la Supercoppa, guarda là, guarda, siamo tutti quanti nell'aria, tutti nell'aria, solo Lautaro Martinez, solo Lautaro Martinez, un capo che non era la serie da solissimi dall'aria ricordi, io non lo so, ma c'è, non c'è la mano in questo orto, però, ma che peccato, ma che peccato, finita, la famiglia, che peccato, mamma mia, che peccato, ce la siamo giocata, con uno in meno, arbitro, arbitro da rivedere, arbitro è una capiterina, hanno fatto 700 falli loro, il primo intervento a noi, e ce lo ammoniva, rosso per Simeone, secondo me che non c'era, ma non tanto per il secondo fallo, tanto quando per il primo, non lo so, fatemi sapere qua sotto voi cosa sarei pensati di questa partita, è vero, non è che abbiamo brillato, non è che abbiamo fatto chissà che cosa, però, almeno l'uno a uno, e poi ce la giocavamo sui rigori, ci stava, forza Napoli sempre, sto un po' con dusso,